Oggi fa molto caldo e stavo pensando di mangiare un po' di frutta. Ero indecisa tra... un mango, un mango, oh guarda! C'è anche un mango! E niente, alla fine nell'indecisione volevo dirvi che ho optato per... il mango. Buon appetito! Volete un po'? Che poi vi snocciolo una curiosità. Lo sapevate che non esiste solo il mango, ma esiste anche il manga?